La targa con il marchio del Dr. Schultz si è resposta in questa vetrina insieme a svariate tabelle recanti il contrassegno di altre famose aziende di prodotti sanitari. È rimasta lì per qualche tempo finché uno zelante burocrate di Palazzo dei Bruzzi non l'ha classificata come insegna per la quale bisognava versare l'apposito tributo comunale. Correva l'anno 2004, appena ricevuta la cartella di pagamento, Ettore Entrieri, titolare del negozio, sito a Cosenza in via Alimena l'ha immediatamente rimossa. Contemporaneamente però ritenendo profondamente ingiusta quella gabella presentava un ricorso. Non si può pagare una tassa su un'insegna piccolissima messa all'interno della vetrina. È lo stesso che io ci ho esposto apparecchi e altre cose tutte con le marche eccetera che faccio, tolgo la marca dell'apparecchio. L'ho contestata presso la commissione tributaria con l'avvocato. La sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria che è stata a mio favore. Con la compensazione delle spese, il comune paga le sue e io pago le mie. Tutto risolto, nemmeno per idea, perché nel frattempo il comune di Cosenza, nonostante l'insegna fosse stata rimossa nel 2004, ha continuato ad iscrivere il tributo a ruolo fino al 2008. Quindi sono ancora in essere le cartelle di pagamento per gli anni successivi. Ci sono altri ricorsi alla commissione tributaria che si succederanno nel prossimo mese di ottobre per gli altri anni. Una tassa che doveva essere sospesa, anche perché la targa non c'era più. Io l'ho tolta. Oltre al danno, la beffa e il debito maturato per questa tassa non dovuta ha fatto scattare anche il fermo amministrativo del veicolo di proprietà del signor Intrievi, che spera di riuscire un giorno a venire fuori da questo vorticoso pasticcio. E quella targa, esporla, era proprio necessario? Sapendo come sono andate le cose, non l'avrei mai fatto. Salvatore Bruno per la CNews24